Questo è un progetto importantissimo per la città di San Daniele, del Friuli, e del Friuli stesso. Perché è importante? Perché ha un forte valore sociale e un forte valore culturale. Sociale perché? Perché in questo progetto hanno lavorato alcuni ragazzi mandati dall'azienda sanitaria con difficoltà. Inoltre il ricavato verrà devoluto in beneficenza. Si tratta di un manoscritto trecentesco di Dante che viene riprodotto con tecniche moderne e per quanto riguarda invece le miniature vengono fatte a mano. È stato riprodotto su carta pergamena e l'associazione ha creato una cooperativa, quindi una cartiera, che sta riproducendo fedelmente la carta su cui è stato fatto il manoscritto. È una pergamena che ha avuto un percorso importante, non viene fatto nulla a macchina, viene fatto rigorosamente come venivano fatte le pergamene un tempo.